Oltre 330 tumori del colon retto individuati in fase precoce. Sono queste a Piacenza le potenzialità dello screening dedicato a questa patologia, un'opportunità importante di prevenzione che può salvare la vita, utilizzata però al momento solo dalla metà delle persone che ne avrebbero diritto. Per sensibilizzare i cittadini scendono in campo dunque i cani della biscia. Il loro invito a cogliere la possibilità offerta dallo screening gratuito è affidato a un brano scritto a quattro mani con il dottor Patrizio Capelli, diventato poi anche un cartone grazie a Luca Cattivelli. Nella paletta salutare il messaggio non potrebbe essere più chiaro e semplice. Non fare lo sciocco ti può salvare la vita. La band piacentina sfrutta la propria verve per far riflettere sull'importanza di aderire all'invito dell'azienda Uslo di Piacenza, iniziativa che si avvale anche del patrocino dell'associazione Chirurghi Ospedalieri. Il brano era stato presentato a futuro in salute ed è stato poi inciso e arricchito con il video di Cattivelli. Da oggi l'azienda lo ha pubblicato su tutti i suoi canali social. Il testo che è un po' irriverente ma spero efficace parla dell'importanza di fare lo screening del sangue occulto per la ricerca dei tumori del colon e del retto, che è uno screening molto banale, molto semplice, totalmente gratuito, che però permette, se evidenziati in fase precoce, di salvare molte vite dal tumore del colon e del retto. Siamo molto contenti da quando è nato lo screening nel marzo 2005. Siamo stati tra l'altro tra le primissime province d'Italia a partire. Siamo molto contenti perché abbiamo osservato una netta riduzione dell'incidenza del tumore del colon, di circa il 30% in tutti questi anni, quindi lo screening è uno strumento indispensabile.